Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, non è riuscita a comere. Con il mio cuore. È passato poco. Non basta dire che sennò ti fa capire. Non è riuscita a comere. Ehi, che sguardo! Fai anche tuo? Sì, sistemo tutti. Tutti gli invitati andranno via, caricati e sistemati. Uno, due, tre... Ah, ok. Ti mancano il capito? Ah, dai! Wow! Accolto nel segno, eh? Vediamo! Bello, vai, bello! Questa è vostra! Questa è vostra! Questa è vostra! Questa è vostra! Il grado di sottotitolo. Questa è con una città a tutte le ricette... Non c'è nessun appare... eh... Un appare via a vedere Grazie a tutti. 1, 2, 3. 1, 2, 3.